Operazione Tabula Rasa A conclusione di indagini portate avanti dalla Polizia Giudiziaria, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lecce, Direzione Distrettuale Antimafia, le fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziare di Taranto hanno eseguito quest'oggi all'alba un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 indagati. 8 sono stati condotti in carcere, 1 agli arresti domiciliari e 2 con obbligo di presentazione. E' l'epilogo di un'indagine molto articolata che ha visto come destinatari gli appartenenti a un soddizio criminale riconducibile per alcuni di questi anche alla Sacrona Unita, nel senso che alcuni di questi soddali in passato erano già stati arrestati e condannati per appartenenza alla nota associazione. Questo soddizio è stato disarticolato a seguito di una complessa indagine che prendeva le mosse da un'attività di analisi rispetto ai soggetti già condannati per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso che hanno visto riattualizzare i propri comportamenti modificandoli e migliorandoli, con particolare riferimento alla penetrazione del circuito lecito dell'economia e del pubblico impiego. Tra le persone attinte da ordinanze di custodia cautelare in dato odierna ce ne erano alcuni che svolgevano lavori anche per aziende pubbliche ai quali erano arrivati sfruttando proprio il loro carisma criminale. Una volta dentro l'azienda municipalizzata questi riuscivano a condizionare anche le imprese che in subappalto lavoravano per questa condizionandone le pagelle rispetto alle prestazioni rese e migliorandole a fronte della corrispondizione di un prezzo. Inoltre avevano raggiunto un livello tale di controllo del territorio tanto da essere riconosciuti e contattati da una casa cinematografica che ha girato un film qui nella città di Taranto che si è rivolta a loro perché svolgesse un'attività di mediazione con la popolazione al fine di evitare disagi a questa e eventuali proteste durante le riprese del film. A fronte di questi servizi il clan otteneva remunerazione in danaro nonché il sostanziale monopolio nel reclutamento delle comparse. La qualcosa poi faceva crescere la fama del sodalizio nell'ambito della popolazione locale. Era tanto importante la figura dei capi clan che riuscivano a condizionare addirittura l'elettorato attivo in occasione delle elezioni amministrative. Infatti loro avevano caldeggiato il voto di un aspirante consigliere comunale ottenendo un numero considerevole di voti. A fronte di questo condizionamento le persone che non si piegavano venivano minacciate. Quelle che invece aderivano venivano remunerate. Accanto a questi reati più che altro riconducibili all'attività di associazione per delinquere ci sono i reati di contrabbando di sigarette, traffico di sostanze stupefacenti, porto e detenzione di armi comuni da sparo sprovviste di matricola.